Oggi in collaborazione con la Capitaneria e con l'Associazione Pesca Sportiva Onegliese in occasione della giornata del mare abbiamo organizzato questo evento rivolto a due scolaresche di scuole medie di Imperia per cercare di far conoscere ai bambini, per cercare di sensibilizzare un po' tutti su quello che è il mare, le sue risorse, i mestieri anche che vengono svolti sul mare. L'abbiamo organizzato qua all'Infopoint dove praticamente da gennaio ad oggi abbiamo già ospitato tantissime scolaresche e quindi questo ci fa estremamente piacere perché l'Infopoint si conferma un centro vitale per quella che è l'attività portuale del bacino onegliese. Abbiamo raccolto, o meglio ci siamo confrontati con la signora Lara del Porto Peschereccio per organizzare questa giornata del mare nelle scuole che è stata istituita l'11 di aprile dal nuovo codice della navigazione entrato in vigore il 13 di febbraio. Abbiamo coinvolto anche la Capitaneria, la Guardia Costiera, sono presenti il sottostenente di Vascello a Venoso Lucia e il comandante Parascandolo Marco. Siamo grati di questa presenza perché la Guardia Costiera riesce sempre a coinvolgerci in attività che possono riguardare le nuove generazioni per il rispetto del mare e dell'ambiente nel suo complesso. Noi come pescatori sportivi, dilettanti, dobbiamo promuovere queste iniziative oltre alle nostre gare di pesca consuete e quindi è una bella giornata, speriamo che i ragazzi si divertano all'insegna del mare e dell'ambiente. Bisogna dire che oggi 11 aprile è la giornata del mare e la prima giornata del mare istituita con una recente legge di modifica del codice della nautica viene quindi data in qualche modo legittimità a quella che è la cultura diffusa del mare. Oggi ci troviamo nella sede del Consorzio dei Pescatori, alla presenza anche dell'Associazione Asno dei Diportisti per celebrare insieme a quelli che sono gli eredi di questa cultura, che dovranno essere gli eredi e quindi tutelare le nostre risorse del mare, cioè gli alunni delle scuole primarie. E' un giorno importante, un giorno importante in cui parleremo, si parlerà in generale dell'impegno delle Capitanelle di Porto, Guardia e Costiera a tutela delle risorse del mare, di uno specchio di mare così importante quale è quello dell'imperiese, dove convivono felicemente realtà produttive, realtà diportistiche, in un delicato equilibrio che deve portare alla conservazione delle risorse che qui vivono. E non solo risorse ittiche, ma parliamo anche di mammiferi del Santuario dei Cetacei. Quindi in questo delicato equilibrio noi cercheremo di far comprendere a questi giovani scolari quanto sia importante già pensare alla tutela di questo mondo.